Com'è la gisa? Sono piccola, sarà da di dì. Sei in quaterna. Sì, è quarantena, picciotto. Picciotto era un po' che immaginava la minga. Dimmi, dai, dai, dimmi, dai, dai. Riu. Picciotto? Ti sono emozionato, ma tocca. No, quando senti la tua usa, mi s'è base alla braghina. L'è un po' complicato di prendere il figlio a distanza, dai. Qui tu sei della quarantena con i tuoi soci della band. Da domani su de Corvée. Cosa cazzo è la Corvée? Faccio da mangiare o no? Fa una settimana per un. E il menù? Espetiti. Che sarò? Chat, pizzocchi, taragna e tarots. Se fa lui il cantante? Lui fa la lista, minga come a te. Tu sei contrario alla mia cusina. È un po' un azzardo chiamare la cusina. Se che manca il cos'è. Non mangiare una nuova cantrega. E non manca nulla che se mangi la lingua e origine la cua per non la finita. Ma il suo chef, si riguarda la stalla, ho sentito i discuti. Si ragionava che l'ho con il chef di Salamone del suo menù vegano. Ma ragazzi stai calmo che ancora le domeniche, domani la cucina all'oltre. Non insegniamo neanche cosa vuole fare. Ma il Saminga. E tu sei stiungo di mangiare la merda del mago. Che chi non scia la lista mi la lancia o no? Farina negra, butter, verza, patate, formaggio, ai e fasolini. È la migliore tiff. Wow! Si cambia, la cuaca basta, sono stiù di mangiare cuaca. Il cantante è da Zanzibar! La che fa di lui, cazzo, sarebbe grande voto o no? Ha! Il Garisunghi, il bassista, mi facciamo un menù speciale del mio paese. Ma potresti almeno dire come lo facciamo che ci si prepara. Se ne giù talamone, esse è pititi, sciat, pizzocchi, taragna e tarots. Alla Zanzibarese. Tu hai nascito il cantante, il serumenga me. Da Zanzi, Zanzibar. Ho un pochino di carne. What did you kill? Ah, adesso c'è una grana. Ma ricordi che avevano le misure, le dosi, ma soprattutto i condimenti, i spezie. Uè cantante, tu non si fermi qui. Ma il menù è si è pititi. Ah, mamma, ma c'è il tuo menù. Andiamo l'altro, adesso spieghiamo come si fa. Mi mette i fasolini, i patati e i tre tipi di formi. E lei? Io il tuo palla odio, ma mi metti per te stesso. Ah, sta senza, potresti fare una modifica. Si modifica un cazzo? Guardi il mato. Gli ingredienti ha deciso la mamma. L'ho messo in là o la cingola? Perché a me là mi dà fastidio il maruga. Non ho capito l'idea, una puntina e basta, mi è slittato. E ti giù in atto cosa cazzo dovresti modificare il nostro piatto. Guarda che amico fantasia, minga come ti. Zenzel, curcuma e cumino. Adesso ando a cantare, ciao. Come l'è già finita la settimana di Corvè? Ah, il suo minga. Com'è il suo minga? Se li ho tutti insieme. Il lunedì dopo la colazione è sparito. Come è sparito? Ma... Sono cazzo mio! È giù il prato, come... come... Come è grea la vacca! Ma che è che mu la branca? Ma una sinistra, cazzo! Ma manca il fiat! Ma fa una fossa, cazzo! E che per me non devi rimanere il massimo, ma mangia 3 o 4 gallini!